Benvenuti al meteo. Nella giornata di giovedì avremo una tregua dal maltempo in attesa dell'arrivo di un'ondata di aria molto fredda che farà calare drasticamente le temperature su tutto il nostro paese. Concentriamoci sulle previsioni per giovedì. Ritornerà a splendere il sole su gran parte dell'Italia, anche se non mancherà un po' di nuvolosità, in transito in particolare al sud, dove sarà possibile ancora qualche pioggia, in Puglia e Calabria. Si faranno sentire nel corso della giornata dei venti piuttosto intensi, in particolare al sud e nelle isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature massime, giovedì saranno ancora oltre le medie stagionali, anche se in lieve calo al centro-sud. E parlando di temperature, guardate le masse d'aria che saranno presenti sull'Europa, si vede proprio questa colata di aria gelida che entro domenica prenderà possesso di tutta l'Italia, facendoci vivere un'intensa ondata di gelo da nord a sud.